Siamo di nuovo in video, una delle videopresentazioni di Italia Medievale sul nostro canale YouTube e oggi abbiamo il grande piacere di avere un amico, posso definirlo così, perché Antonio Musarra, che abbiamo già avuto nostro ospite per altre sue pubblicazioni, in questa circostanza ci presenterà Francesco, i minori e la terra santa, pubblicato dall'edizione La Vela nel 2020, quindi una vera novità editoriale. È un argomento anche molto discusso e fonte di molte discussioni e anche di parecchi studi, quindi sono molto curioso di sentire come Antonio ha risolto la vicenda dell'incontro tra Francesco d'Assisi e il sultano Al Camil. Intanto buongiorno a tutti e grazie Maurizio per questo nuovo invito. Per me è veramente un piacere presentare questo libro che è nato in occasione di un centenario, possiamo dire. Nel settembre-ottobre del 2019 abbiamo celebrato gli 800 anni di questo incontro, un incontro particolare che ha fatto scorrere i proverbiali fiumi d'inchiostro. Io personalmente ho avuto il grande privilegio di essere stato invitato, niente meno che dalla custodia di Terra Santa, a contestualizzare questo incontro nell'ambito delle celebrazioni ufficiali che si sono svolte appunto a Gerusalemme il 4 ottobre del 2019. E naturalmente questo libro è nato dunque con l'obiettivo di fornire innanzitutto agli astanti una rivisitazione di una vicenda eccezionale, che mi ha portato naturalmente a rivedere, rivedere da cima a fondo potrei dire così, le stesse fonti. Perché? Perché il discorso è un discorso prettamente di fonti. L'episodio lo conosciamo tutti, no? Nell'autunno del 1219, nel corso della cosiddetta Quinta Crociata, Francesco di Assisi parte, forse d'Ancona, probabilmente con un compagno, anzi giunge, giunge in autunno in Egitto. Si sta combattendo una dura lotta per la conquista di Damietta, che cadrà nel principio del novembre successivo, e Francesco, nell'ambito di una tregua che si è sviluppata tra le parti, oltrepassa le linee nemiche e viene accolto dal sultano al Malik Al-Khamil, che ha un colloquio, un colloquio con Francesco stesso. Che cosa si siano detti è difficile dirlo. Sappiamo però che questo incontro è stato registrato da numerose fonti dell'epoca. Fonti così diverse tra di loro che hanno permesso a tutta una pletora di studiosi, all'interno dei quali vi sono, vi è anche sottoscritto, di dare effettivamente interpretazioni differenti rispetto all'episodio. Vi è chi ha voluto sottolineare il pacifismo di Francesco, diciamo, utilizziamo un termine anacronistico, sostenendo che egli desiderasse in fondo mettere a tacere le armi tra le due parti. Vi è chi ne ha sostenuto invece il carattere crociato, ma in una maniera naturalmente tutta particolare, ovvero affermando che egli potesse in certo qual modo condividere gli ideali di crociata e quindi sostenere i crociati stessi. Io ho cercato di dunque compiere un itinerario, nelle molte voci che hanno parlato dell'argomento e proporre una soluzione, una soluzione peculiare. Innanzitutto cominciamo da qui. Devo dire che le fonti che ci parlano dell'argomento sono fondamentalmente di due tipi. Fonti di natura crociata, ovvero personaggi che assistono all'evento e che narrano l'evento perché lo hanno appreso direttamente in oltremare, e fonti di natura ageografica, ovvero le cosiddette fonti francescane che sono a conoscenza di questi fatti ma che costruiscono sui fatti una rielaborazione che molto spesso è di natura teologica. Con questo non voglio dire che le fonti crociate siano, Maurizio, più accurate, più veritiere, anche se hanno una propria precomprensione, vanno dunque contestualizzate. Però certamente confrontando le varie fronti è possibile quantomeno riconoscere l'apporto di ciascun autore alla costruzione di una vicenda. La grande polemica che vi è stata negli ultimi decenni a proposito di questo evento è centrata proprio su questo. Vi è stato qui, come ad esempio John Tolan ha affermato in un suo libro molto importante che in realtà, poiché ciascun autore presenta l'episodio in maniera diversa, in fin dei conti noi non possiamo dire nulla rispetto all'episodio. Io credo che non sia così e in questo libro ho cercato invece di proporre una soluzione a questo vero e proprio dilemma. Scartando innanzitutto la terza tipologia di fonti. Fino a qualche anno fa si parlava di una ripresa dell'episodio all'interno delle fonti arabe. In realtà noi sappiamo che questa ripresa non è veritiera. vi è la menzione in una fonte araba quattrocentesca di un rahib, di un maestro che aveva particolari rapporti con il Malik al-Kamil, ma la conoscenza, lo studio della biografia stessa di questo sultano iubile così importante ha portato a comprendere come egli avesse effettivamente molti rapporti con personaggi cristiani di varie confessioni che naturalmente vivevano all'interno dei domini aiubidi. Sicché non è più possibile associare quella unica fonte quattrocentesca alla figura di Francesco. Il ragionamento va fatto dunque tra le fonti crociate e le fonti di natura ageografica. E naturalmente inserendo le une e le altre all'interno del contesto. È per questo che il volume, il libro, inizia cercando di spiegare quello che è il contesto crociato dell'epoca, le motivazioni di questa quinta crociata che si sviluppa, lo ricordiamo, tra il 1217 e il 1221 e che ha come obiettivo l'Egitto. Il grande obiettivo della maggior parte delle crociate duecentesche è l'Egitto, ovvero il paese commercialmente più importante dell'intera area del Mediterraneo sud orientale. L'Egitto dunque è al centro della crociata stessa. E però, oltre che alla crociata, il mio interesse, l'interesse a contestualizzare l'episodio, ha guardato anche allo sviluppo dell'ordine stesso, o meglio della fraternitas francescana, che diventa, faticosamente, come sappiamo, un vero e proprio ordine. Questo perché? Perché noi sappiamo che Francesco non è il primo a recarsi nel Levante. Prima di lui altri fratres, come frate Giglio nel 1215 e lo stesso fratelia, quindi un personaggio estremamente importante per l'ordine stesso, si recano in Terra Santa questa volta. Fratelia, in particolar modo nel 1217, quindi in concomitanza con le prime partenze per la crociata che si dirigono prima in Terra Santa per poi scendere in Egitto, ha il compito di fondare una vera e propria provincia, la provincia ultramarina. Allora, contemporaneamente al discorso relativo alla crociata stessa, ha cercato, ecco così, di seguire le tracce dei primi francescani che si stanziano in Terra Santa. E sappiamo che l'opera di fratelia è un'opera importante perché nel momento in cui lui arriva ad Acri, che è la capitale del regno crociato di Gerusalemme, Gerusalemme lo sappiamo è perduta dal 1187. Ebbene, fratelia riesce ad accogliere alcuni giovani o meno giovani all'interno di questa fraternitas. C'è dunque un gruppo, una fraternitas francescana in Terra Santa prima dell'avvento, prima dell'arrivo di Francesco. Francesco, che ricordiamolo, si reca innanzitutto in Egitto. Forse si reca anche in Terra Santa, ma la questione è dibattuta. Abbiamo però qualche appiglio, magari lo diremo fra poco. Allora, qui c'è un pregresso. E chi ci racconta questo pregresso? C'è un personaggio chiave, un personaggio chiave che è il primo testimone, ed è un testimone importantissimo perché ha un'autorità, è un'autorità di Terra Santa, è il vescovo di Acri, Jacques de Vitry. Jacques de Vitry giunge ad Acri partendo da Genova nel 1216 e è un predicatore, è uno dei predicatori della crociata stessa, ed è anche una delle fonti principali relative alla crescita dell'ordine della fraternita, se poi ordine minoritico. Quindi è una testimonianza estremamente importante. Ebbene, Jacques de Vitry ci parla di questo episodio in alcuni scritti, ed è la prima fonte in assoluto di cui possiamo disporre. Una lettera del 6 febbraio o marzo, secondo delle versioni del 1220, quindi redatta pochi mesi dopo l'incontro tra Francesco e il sultano, ci riporta in maniera molto molto semplice i fatti avvenuti. Se posso leggerla, ve la leggo volentieri, sono proprio poche righe, però significative. Ci dice Jacques de Vitry, il loro maestro, che istitui quell'ordine, essendo venuto nel nostro esercito ardente dello zero della fede, non temette di attraversare l'esercito dei nostri nemici, e dopo aver predicato per alcuni giorni la parola di Dio ai saraceni, non ottenne granché. Il sultano, re dell'Egitto, gli chiese però in segreto di implorare il Signore, secondo la sua religione, perché divinamente ispirato aderisse alla religione che più piacesse a Dio. Ebbene, Jacques de Vitry è un personaggio interessante, un personaggio che ama scrivere e anche esagerare in quello che scrive, ama raccontare di sé ai propri confidenti, ai propri amici, e in questo caso noi abbiamo tre versioni di questa lettera, una versione addirittura inviata a Papa Onorio, in questa versione il passo relativo a Francesco è spunto, le altre due versioni invece lo riportano. Che cosa possiamo ricavarvi? Beh, che egli non temette di attraversare l'esercito, che predicò la parola di Dio ai saraceni, ma che tuttavia, come sappiamo, non ottenne granché. Pochi anni dopo, però, Jacques de Vitry ritorna sulla vicenda in un passo che, a mio avviso, è particolarmente interessante. Siamo nella sua Historia occidentalis, redatta tra il 1223 e il 1225-26, al capitolo 22. E nuovamente vorrei leggervi questo passo, perché risulta per un particolare di estremo interesse. Ascoltate, tutti i saraceni, ci dice Jacques de Vitry, ascoltano volentieri i suddetti frati minori per tutto il tempo che predicano sulla fede di Cristo e la dottrina evangelica, finché nella loro predicazione non contraddicono apertamente ma ometto come menzognero e perfido. E poi aggiunge, non solo i fedeli di Cristo, ma anche i saraceni e gli uomini ottenebrati, ammirando la loro umiltà e perfezione, quando, a causa della predicazione, si recano intrepidi verso di loro, li accolgono volentieri, provvedendo con animo amabile a tutto il necessario. E poi abbiamo visto che il primo fondatore maestro di quest'ordine, al quale tutti gli altri obbediscono come al loro sommo priore, uomo semplice e letterato, amato da Dio e dagli uomini, chiamato frate Francino, forse una corruzione per Francescus, forse un nome non ancora ben noto, fu rapito a tanto eccesso di ebrezza e fervore di spirito che, giunto presso l'esercito cristiano davanti ad Amietta, in terra d'Egitto, intrepido e amato dello scudo della fede, si recò all'accampamento del sultano d'Egitto. Catturato dai saraceni lungo la via, disse, Christianus sum, io sono cristiano, conducetemi dal vostro signore. Dopodiché il racconto della vicenda, di dialogo con il sultano e il tentativo di convertire il sultano, il sultano che naturalmente non si fa convertire, però gli permette di ritornare al campo crociato. Prega per me affinché Dio si degni di rivelarmi quella legge e fede che più gli piace, la classica chiosa. Allora, di questo passo a me è interessato particolarmente l'espressione, che naturalmente Gioacchedevitri pone in bocca Francesco, ma che non sappiamo effettivamente se sia stata pronunciata, ma a me ha fatto pensare immediatamente a un elemento importante. L'espressione è naturalmente morizio cristiano sum, io sono cristiano. Perché questo? Perché la stessa espressione corrisponde a una formula, una formula di fede che noi ritroviamo niente meno che nel Corano. Naturalmente non c'è nessun tipo di collegamento tra il testo di Gioacchedevitri e il Corano, è un pura casualità. Sono quei lampi che nel leggere una testimonianza vengono in mente che dicono, ma caspita io questa frase l'ho già udita, dove? Nel Corano. Andiamo a prendere il Corano. E allora, leggendo il Corano alla Sura V, il versetto 82, noi leggiamo esattamente questa frase. Troverai che i più prossimi all'amore per i credenti sono coloro che dicono in verità siamo cristiani, siamo nazareni, cristiani. E poi, perché tra loro ci sono uomini dediti allo studio e i monaci senza superbia? Allora, questa frase a me ha aperto un mondo. Innanzitutto la confessione di fede. I più prossimi all'amore per i credenti, cioè l'amore per i musulmani, sono coloro che dicono in verità siamo cristiani. Cristiano sum, siamo cristiani. Se vogliamo anche formula antichissima, detta patristica. Però poi dopo il versetto del Corano fa una bipartizione, perché tra di loro dice ci sono uomini dediti allo studio e monaci senza superbia. Allora, se noi dobbiamo immaginare il modo in cui il sultano al-Malik al-Kamil ha categorizzato Francesco, ebbene, possiamo certamente utilizzare questo versetto del Corano, associandolo alla categoria, possiamo dire così, dei monaci senza superbia. Francesco fu probabilmente considerato la stregua di uno di quei monaci che vivevano all'interno dei confini, della configurazione statuale, della confederazione aiubide, e che il sultano stesso conosceva molto bene. È interessante però anche l'altro termine di paragone. Perché? Perché oltre ai monaci senza superbia, il Corano stesso ci dice che tra i cristiani vi sono anche uomini istruiti, uomini dediti allo studio, presbiteri, e gente con cui, insomma, si può ragionare su un piano differente rispetto a quello espresso dal monachesimo. Intendiamoci, Francesco non è un monaco, è un laico, forse diacono, già dal 129-10, secondo le ultime teorie, ma esprime un laicato che è crescente, ecco. Però noi stiamo guardando il punto di vista musulmano della faccenda. L'altro versante è parimenti importante e veniamo a scoprire che cosa? Che pochi mesi dopo l'incontro tra Francesco e il sultano, alla tenda del sultano, al majlis del sultano, si presentano altri personaggi inviati, questa volta da un personaggio, da un personaggio che conosciamo bene, che è niente meno che Federico II di Svevia, diventato imperatore appunto nel 1220. Il personaggio che tutti attendono, che deve partecipare gli stesso la crociata, che come sappiamo non parteciperà, ma invierà dei propri rappresentanti in Egitto e in Terra Santa. Insomma, Federico ha uno scambio molto interessante, che ci viene testimoniato da alcune fonti arabe studiate dal mio amico Giuseppe Mandala, che saluto, approfitto per salutare. Insomma, ha uno scambio di natura prettamente intellettuale, uno scambio che si basa sulla comune lettura della filosofia naturale di Aristotele e che dunque non ha nulla a che vedere con le istanze di Francesco. Si tratta proprio di domande, i famosi quesiti di Damietta che Federico pone al sultano, che riguardano la sostanza delle muvole, la funzione, il colore del liquido seminale, cose molto interessanti. Al contempo abbiamo un terzo personaggio, un predicatore della crociata, Oliviero di Colonia, che è presente al campo di Damietta e che nuovamente invia un proprio scritto al sultano, questa volta di natura prettamente teologica, la dimostrazione del padre, del figlio e dello Spirito Santo, a cui il sultano chiede di rispondere, ma con argomenti di natura razionale. Allora, cosa emerge e cosa ho cercato di raccontare nel libro? Beh, è un panorama estremamente più ampio rispetto a quello che eravamo abituati a considerare, un panorama di rapporti tra il mondo musulmano e il mondo cristiano che si basano su diversi piani. Vi è il piano intellettuale, potremmo dire così, di Federico, di Oliviero, a cui si risponde con le armi della logica. Vi è il piano, per così dire, religioso, spirituale e anche mistico, se vogliamo, incarnato da un Francesco, il quale, e questo è il complesso delle testimonianze, su cui ormai ho rubato troppo tempo, non mi soffermo, e poi qualcuno leggerà anche il libro in questa maniera, il quale, insomma, fu portatore di, prettamente di un'istanza di conversione. L'obiettivo di Francesco, di questo ne sono profondamente convinto, era tentare di salvare l'anima del sultano cercando di portare la parola, cercando di convertirlo alla fede cristiana. Questo ci viene confermato da una terza fonte che voglio citare, ma poi smetto qui, che è la cronaca di Ernau, che è un autore, nuovamente, che osserva i fatti dal punto di vista della terra santa cristiana e che scrive una decina dopo i fatti, che ci racconta nuovamente questo incontro all'interno di quella che lui immagina una disputa teologica, che naturalmente non poteva essere, in quanto Francesco stesso non aveva strumenti, era il letteratus, come ci dice Jacques de Vitry, per sostenere una disputa di natura teologica, ma che a un certo punto tira nuovamente fuori il tema della conversione. Le fonti ageografiche posteriori non faranno altro che costruire, costruire sulla vicenda aggiungendo particolari, le percosse, ad esempio Tommaso da Celano ne parla, parlerà anche di desiderio di martirio, poi non portato a termine perché il vero martirio saranno poi le stigmate successive. Buonaventura da Magno Regio inserirà il particolare del fuoco, che però non si ritrova, si ritrova, lo sappiamo benissimo, nell'iconografia, l'ordalia del fuoco è rappresentata nell'iconografia relativa all'argomento, da giotto in poi, ma non solo, però non si trova nelle fonti più antiche e che ha naturalmente un significato teologico che studiando la figura di Buonaventura si può ricavare. Però il libro, e lasciami dire ancora questo, poi prometto che mi taccio Maurizio, il libro non si ferma qui, nel senso che il mio obiettivo è stato quello di proseguire. Dopo aver analizzato l'episodio e aver dedicato dunque una buona metà del libro alla sua contestualizzazione, la seconda metà del libro cerca di comprendere quali furono i frutti di questo incontro, soprattutto per la presenza francescana in Terra Santa e per l'elaborazione da parte del mondo francescano di un pensiero relativo alla crociata. Questo è un punto cardine. Sino adesso non si sono cercati, come dire, collegamenti diretti tra l'esperienza di Francesco e le elaborazioni crociate di un Fidenzio da Padova, di un Gilberto di Tournai, insomma dei grandi francescani che poi la crociata l'hanno effettivamente predicata, così come di altri che invece, come Gerobacone, hanno sempre premesso la persuasione più che all'uso delle armi. Sono atteggiamenti differenti che noi troviamo nell'ordine francescano nel corso del XIII secolo. Io credo che vadano tutti rapportati a quel primo esempio e ai frutti di quel primo esempio, frutti che noi troviamo immediatamente nella regola, nella regola non bullata, ricordiamo del 1221, laddove Francesco stesso consiglia ai fratti il modo di comportarsi nei confronti dei saraceni. Allora io ho voluto seguire questa vicenda sia dal punto di vista dell'elaborazione concettuale di un pensiero relativo alla crociata, sia della presenza stessa di Francescani in Terra Santa, mostrando come questa presenza sia costantemente in crescita, anche se fu una presenza che incontrò molti problemi, per un motivo molto semplice. I francescani erano ottimi predicatori, la loro predicazione si rivolgeva in particolar modo ai cristiani, naturalmente, ma anche a quei musulmani che vivevano all'interno dei territori latini e che molto spesso fungevano da servi, lavorando o in casa, servi domestici, oppure nei campi. Ebbene, abbiamo un'opposizione cristiana nei confronti di questa predicazione. Perché? Perché nel momento in cui il musulmano ascudiva questa predicazione, comprendeva che poteva essere liberato grazie al battesimo. Noi abbiamo allora i baroni di Terra Santa che si oppongono a che i francescani, e con essi i domenicani, predichino e liberino in questa maniera i propri schiavi. A un certo punto interviene il Papa, il Papa Gregorio, che dice Vabbè, guardate, poiché la situazione è questa, allora facciamo uno strappo alla regola. Se anche questi musulmani si convertono al cristianesimo, facciamoli rimanere schiavi. Aboliamo questa norma ormai vetusta, lasciamoli pure in schiavitù. E questo è un passaggio fondamentale. Io ne seguo naturalmente le vicende, sino a due eventi con cui ormai è l'ora di concludere, e concludo veramente, che rappresentano una vera e propria plaque tournante di tutta questa vicenda. Il primo è sicuramente la caduta di Acri, 1291, che vede terminare questa presenza che nel frattempo si è rafforzata. I francescani sono diventati vescovi, hanno costruito chiese, cappelle in tutta la Terra Santa cristiana. Col 1291 questa presenza si interrompe. E però, guarda caso, abbiamo un papa crociato e francescano. Il primo papa francescano della storia che bandisce una crociata per riconquistare Acri, caduta nel 1291, parlo naturalmente di Niccolò IV, a cui dedico ampio spazio. Il libro poi si conclude con quella che sarà la ripresa. La ripresa immediata, già a partire dal 1303-1304, abbiamo notizia di francescani che si recano nelle carceri egiziane per sostenere, possiamo dire così, i prigionieri, gli stessi prigionieri di Acri. Un rapporto che crescerà nel corso del tempo è che poi, grazie ai regnanti angioini, prima della metà del 300, tra gli anni 30 e gli anni 40, si concretizzerà nella fondazione della custodia di Terra Santa, di cui appunto viene narrata la Genesi, sino a quel fattidico 1342, quando la custodia viene ufficialmente riconosciuta. Una storia dunque importante, una storia quella della custodia che, come sappiamo, prosegue fino ad oggi e che ha fatto sì che il volume fosse apprezzato con mia grandissima gioia e naturalmente riconoscenza, niente meno che da quello che è oggi il padre custode di Terra Santa, padre Francesco Patton, che mi ha voluto beneficiare della sua prefazione e che sicuramente ha reso il volume molto più interessante, potremmo dire, possiamo dire così. Complimenti! Mi ho lasciato senza parole, anche perché è un argomento sicuramente interessante e spesso e volentieri strumentalizzato da una parte e dall'altra, da chi vuol vedere il fantomatico messaggio pacifista con termine ovviamente moderno e non di allora, chi invece ci legge ovviamente l'idea di predicazione tipica dell'ordine francescano e poi invece chi, come te, per fortuna, si attiene ai dati di fatto e alle fonti e lo ricostruisce dal punto di vista storico che poi è la cosa che ci interessa di più. Sì, si è trattato appunto di un lavoro effettuato sulle fonti e io sposo una visione forte però da questo punto di vista. perché io nasco un po' sullo studio della crociata e solitamente noi siamo abituati a pensare alla crociata esclusivamente come un fatto bellico. Questo anche a livello manualistico, alcuni manuali di storia medievale la descrivono esclusivamente in questa maniera. In realtà no, per me è un fatto prettamente religioso che poi ha tutta una connotazione di natura bellica, culturale, economica e vi dicendo, ma principalmente è un fatto di natura religiosa. Abbiamo diverse anime all'interno della crociata, tra cui un'anima che riguarda prettamente la religiosità popolare, la possibilità tramite la crociata di recuperare da parte delle folle, delle masse, quel rapporto con il sacro, rappresentato massimamente da Gerusalemme, terrestre e celeste, che era divenuto sostanzialmente con la riforma della chiesa dell'undicesimo secolo appannaggio del clero. Con la crociata, la crociata vede invece le masse entrare effettivamente sul palcoscenico della storia. Questo è riconosciuto peraltro anche da un grande studioso come André Voschè, ma potrei citare anche Franco Cardini a questo proposito. Quindi c'è una crociata che è puramente guerra, naturalmente, c'è la strategia, c'è il tentativo di comprendere la maniera di difendere il territorio, di conquistare il territorio, ma poi c'è anche il desiderio di compiere quell'atto penitenziale che è insito nell'origine stessa della crociata e che non è un elemento che possiamo relegare unicamente ai tempi di Urbano II. L'aspetto penitenziale, l'aspetto relativo alla purgazione dei peccati, tanto più in un periodo in cui, lo sappiamo da Jacques Le Goff, il purgatorio viene invento nella complessità del termine, naturalmente, è un elemento che noi ritroviamo anche al tempo di Francesco. E Francesco si inserisce pienamente in questi movimenti penitenziali laicali che lo precedono e che lo seguono e che vedono nella crociata un motivo di salvazione, la crociata come tempus pacis, come ultima delle guerre, come tempo apocalittico. Questo è un elemento da tenere presente. Per questo io credo che Francesco potesse essere favorevole alla crociata, naturalmente non nel suo aspetto bellico, ma nel suo aspetto prettamente penitenziale, perché di fatto lui cosa porta al sultano? Un'istanza penitenziale, ovvero un'istanza di conversione, metanoia in greco, cambiamento radicale di rotta. Questa è l'essenza profonda della crociata per Francesco e molto probabilmente per chi sta attorno a Francesco. Mi rendo conto che è un'affermazione forte, ma abbiamo le spalle larghe per poter sostenere eventuali obiezioni. Allora, io ricordo intanto il titolo Francesco, i minori e la terra santa di Antonio Musarra, pubblicato da Edizioni La Vela nel 2020, quindi recentissimo. Sono 380 pagine, ma che si può comprare a 20 euro, quindi un prezzo assolutamente abbordabile. è una lettura che io consiglio a tutti. Ero piacevole. Sì, sì, ma poi Antonio scrive anche come parla, quindi è comprensivo, chiaro, lineare. Vabbè, adesso qui si sbrodano una serie di complimenti, però sicuro che sono veri e sentiti. Grazie mille, grazie davvero. Quindi compratelo, spero che questa videopresentazione vi abbia intrigato, vi abbia spinto a comprare il libro. La troverete sul canale YouTube di Italia Medievale e anche sul nostro sito, che vi ricordo, è www.italiamedievale.org Antonio, grazie ancora e alla prossima. Tanto tu sforni un libro al giorno. No, non è possibile. Bene, grazie a tutti. Grazie ancora a Maurizio per l'invito. Grazie, grazie. Grazie a tutti.